gli ingredienti per questa ricetta sono dei peperoni piccoli fatti in questa maniera ma possono essere anche delle zucchine io ho entrambi quindi li mischierò un po di olive taggiasche la buccia di un limone uno spicchio d'aglio due pomodori qualsiasi tipo avete che renderanno il nostro impasto umido e saporito due scatolette piccole di tonno sale pepe olio di olive del pane raffermo provvediamo a svuotarli a lasciare il coperchietto da rinserire dopo e buttiamo tutti i semini che sono all'interno ci aiutiamo con un cucchiaino per svuotare bene precedentemente intagliamo con un coltello ecco qua abbiamo mischiato tutti i nostri ingredienti il pomodoro ridotto in pezzettini abbiamo messo le nostre olive poi abbiamo il pane che lo abbiamo tutto ridotto in briciole la buccia grattata del limone che è un ingrediente importante per questo piatto per dare il suo profumo qui abbiamo lo spicchio d'aglio ridotto in piccoli pezzettini e il tonno ora provvediamo ovviamente abbiamo aggiunto anche dell'olio di oliva del sale del pepe ora provvediamo a mischiare il tutto e a unirlo nelle nostre verdure che abbiamo provveduto a svuotare e che riempiremo ben bene quindi in maniera generosa chiuderemo con il tappino e metteremo al forno a cuocere con l'acqua che arrivi a metà della loro alte ecco il nostro impasto che abbiamo ben amalgamato abbiamo provveduto a inserire tutto in una teglia che le contenga non che stiano troppo larghe quindi giusta ora gli uniremo un po di olio di acqua e riempiamo le nostre verdure ecco qui abbiamo riempito le nostre verdure e ora provvediamo a rimetterci sopra i coperchietti su ognuno metteremo al forno che facciamo cuocere finché non diventano teneri quindi considerate almeno 40 minuti riempiamo fino a due terzi diciamo della zucchina a un centimetro dei peperoni considerate che potete utilizzare qualsiasi tipo di peperone voi vogliate io oggi ho questi ma potete mettere anche dei classici peperoni tagliati a metà e nella stessa maniera potete riempire anche le melanzane anche le zucchine lunghe e volendo potete sostituire il pane con del riso ecco qui vedete ho messo l'acqua ho messo anche un pizzico di sale sulla superficie e ora facciamo cuocere in forno a 180 gradi già riscaldato per una quarantina di minuti con del riso ecco qui vedete ho messo l'acqua ho messo l'acqua ho messo l'acqua ho messo l'acqua